Un incendio è scoppiato nella casa di riposo, centri servizi anziani Cazzo e i nonni ad Alvarendo Davide, nel Veronese, due inseriti, pare in maniera lieve, i volontari della protezione civile di tutta la provincia si sono portati sul luogo per trasferire 90 ospiti nel palazzetto dello sport del comune Caligero, ospiti e personale sono riusciti, fortunatamente, ad essere messi in salvo, sulla via che porta alla casa di riposo si vedono alineati a bordo strada, in entrambe le cortie, i lecchi con gli anziani con le macchierine sul dito, accuditi dagli infermieri e dai volontari della protezione civile, l'incendio si sarebbe sviluppato nel sottotesto, ancora da chiarire le cause, sarebbero 81 gli anziani portati fuori in tempo prima che le fiamme si estendessero ai locali. Sulla zona sono concluite decine di squadre dei vigili del fuoco oltre che da Verona, anche dalle province limitrofe di Padova e Vicenza.